Anche quest'anno è stato inaugurato il progetto Conoscere il fiume, iniziativa che farà conoscere a tantissimi alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pordenone la bellezza e l'importanza del fiume Noncello, una risorsa fondamentale per il nostro territorio, insegnando ai ragazzini come valorizzare l'ecosistema fluviale. Questo progetto viene realizzato ormai da anni grazie alla preziosa collaborazione dell'Associazione Gomonauti Pordenonesi, che mette a disposizione il battello Ponte Unbot sul quale è possibile effettuare un'escursione alla scoperta delle acque verdissime del Noncello tra il ponte di Adamo e Deva e la storica località Dogana Vecchia. Le uscite sul fiume per i ragazzini delle scuole si terranno tutti i giorni fino al 29 maggio e coinvolgeranno ben 36 classi di numerosi istituti cittadini, per un totale di 700 alunni. È una bella iniziativa culturale, didattica, che fa conoscere a questo nostro ricambio generazionale se mi è permesso di dire. Le bellezze di questo fiume è una bellezza unica del suo genere, poi ci sono gli aspetti della flora, della fauna, c'è la storia di Pordenone che nasce da questo fiume, per cui c'è tanta carne al fuoco. Oggi abbiamo un esponente dell'ARPA e domani avremo una guida naturalistica e anche i giorni a seguire, per cui per tutto il periodo di queste escursioni ci saranno delle cose bellissime da ascoltare e da imbagagliare nella nostra cultura. Il fiume Noncello è la radice di Pordenone, è la mia radice perché io sono un pordenonese, in modo viscerale lo amo e mi sto prodigando da sempre per farlo conoscere, per utilizzarlo, per fruirlo. Per cui vedo che c'è molta collaborazione da parte di questa amministrazione, che ringrazio, l'ho sempre ringraziato e continuo a ringraziarli e speriamo che duri nel tempo. Questa importante iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno economico dell'amministrazione comunale all'intervento straordinario della regione Friuli-Venezia-Giulia, che ad aprile ha effettuato un'importante pulizia del fiume da tronchi e ramaglie in seguito alle forti piogge che si sono abbattute sui bacini montani, e all'ARPA regionale, che grazie ai suoi esperti sensibilizzerà i ragazzi sui temi riguardanti le risorse idriche. Poi, da giugno a settembre, il Pontum Bot accompagnerà con le sue suggestive escursioni i tanti eventi che si svolgeranno a Pordenone tra la primavera e l'estate.